questo è un esercizio che devi assolutamente provare prova nella stessa location dalla stessa posizione a effettuare lo stesso scatto con focali diverse in questo caso 14 20 24 50 70 100 e 200 millimetri ho cambiato focale ho cambiato lente ma non ho mai cambiato la posizione del treppiedi ho semplicemente ruotato la macchina cercando gli spunti più interessanti con questo esercizio puoi capire come sfruttare meglio le prospettive create dalle varie focali